La proposta di Federmoda è una parzialità di quello che sono i saldi di fine stagioni. I saldi di fine stagioni dovrebbero essere gestiti e garantiti, nel senso controllati, cioè non ci dovrebbero essere i saldi selvaggi, che tutta la stagione ci sono negozi che fanno saldi, promozioni, eccetera. Per cui se c'è una giusta legge precisa e controllata, che i saldi vengono effettuati nei periodi stabiliti e quindi di legge, io sono d'accordissimo. Sicuramente è una proposta nuova e si potrebbe sperimentare. L'unica cosa che forse manca è la serietà di rispettarla, perché posticipare gli sconti penso che sia salutare per tutti coloro che vendono un prodotto stagionale, perché vendere la merce estiva quando ancora l'estate deve arrivare penso che non sia produttivo per nessuno.